buongiorno 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 voi siete qui e vi state perdendo qualche cosa vi state perdendo qualche cosa che cosa Lorenzo dici tu stanno filmando una crew una crew una crew una crew una crew che sarebbe una troupe cinematografica film americano film americanissimo americano americano attori americani andiamo a vedere è quello che cerchiamo a vedere facciamo lo scoop scusa ma tu sei italiano sono italiano fai parte di questa di questa truppo di questa crew o sei qui per casa faccio parte dipende se per l'america sono qua per caso per l'italia sono qua oggi senti questo è una cosa per fiorello ma ti dico una verità ciao fiorello fa caldo lo conosci fiorello fa molto caldo fiore 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 buongiorno fiorele allora ti mando un bacio lo sai che sto soffrendo qua a miami una differenza qua lo sai che ti voglio bene quindi siete italiani si siamo italiani siamo italiani ci si riconosce e poi niente dai quando torno ti vengo a trovare al bar un bacio e tu sei americana è scappato a me ieri per venire a vedere un saluto a fiorello lo facciamo ciao dove mi porti dove mi porti porto da lì ma allora una truppa italiana non è americana chi è un attore americano anche lui italiano for price ma non è un attore americano buongiorno un saluto a fiorello io speravo di trovare un set americano ma sta in roma al bar quindi anche tu sei italiano niente io speravo di trovare un film di un film americano americano e mezzo americano sai meglio con Memphis sei americano quindi alla fine dentro sei americano più fuori ti ringrazio comunque andiamo 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 vedi la situazione è molto concitata vediamo vedi c'è anche una macchina americana l'attore Memphis nome americano completamente americano rosario ce l'ho fatta ecco ho raggiunto aspetta 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 oh lei non è quindi americano what are you talking about ah lei americano oh meno male finalmente un saluto a fiorello non so se lo conosce fiorello fiorello è molto conosciuto in italia the one who was uh oh sindaco fiorello di new york aspetti aspetti vabbè riproviamo proviamo un altro tentativo buongiorno scusi lei americano fiorello io sono molto americano lei però parla molto bene italiano vedo io parlo poco aspetti che la vedo un po contro luce però mi sembra ecco ecco un saluto carlo carlo richards qui ci stanno salutando che gli parlano solamente americano hola che dice tuo papà addirittura parlano anche spagnolo però un saluto lei regista un saluto lo possiamo fare al fiorello in italiano in italiano in siciliano per rosario ciao rosario grazie a tutti grazie a tutti